Consigliamonti, partiamo da una domanda banale, soddisfatto? Decisamente soddisfatto, siamo stati ancora i soliti parellini, un po' di alti e un po' di bassi ma alla fine sono stati maggiori gli alti dei bassi e ce le sono portate a casa con grande soddisfazione Adesso si sapeva che questa era una delle corazzate del campionato, squadra sicuramente più esperta però in certi momenti quegli esperti siete sembrati voi con dei colpi in certi momenti particolari da giocatore ultra trentenne, da D'Ambrosio, da Salvador che è stata forse la più bella sorpresa della giornata Sì, sono stati molto bravi in campo a variare i colpi, a gestire le situazioni e a ritirare sulla testa quando c'erano i momenti di difficoltà Siamo stati vecchietti dentro ma molto giovani fuori, l'abbiamo visto portando da casa alte break e vantaggi Questo è il parella che ti piace? Sì, questo è il parella che mi piace ed è il parella da cui partire una partita di alto livello contro una squadra fortissima, contro un Crusca fenomenale e questa deve essere la nostra base di partenza da qui in avanti